Capitano, alla signorina serve aiuto. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'elite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikael Victor, comandante del platone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Il mio platone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazio il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo fare evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, supertanto. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è il radio. Stabiliamo le priori.